Sì, l'avevo sfiorata da ragazzino, ma non c'ero mai riuscito a arrivare all'Atalanta. Ci ho sperato quest'anno e ho rifiutato la Lazio per sperare di arrivare qua e alla fine il mio sogno si è avverato. Ecco, anche una scelta di vita la tua. Sì, era tre anni che mia moglie e mia figlia erano a Bergamo, quindi diciamo che la famiglia ha influito, anche se poi alla fine giocare all'Atalanta per me, come ho detto prima, era un sogno. Anche perché qua avrai fuori casa praticamente tutti i tifosi, la famiglia, i parenti, il papà, che non è mai mancato alle tue uscite quest'anno con l'Atalanta. Sì, almeno qua riescono a seguirmi un po' tutti gli amici, la famiglia, quindi sentirli vicini per me era importante. Giuseppe, che campionato sarà? Adesso arrivano le partite che contano, avete messo benzina nelle gambe, la state tuttora mettendo, arriva la Team Cup e poi soprattutto arriva il campionato, l'Elas Verona. Sì, dai, il per campionato è stato buono, abbiamo lavorato bene col Mista, io lo conoscevo già, adesso si avvicina alla prima partita ufficiale, sappiamo che in Italia tutte le partite sono difficili, ci aspetta un campionato come sempre duro, però abbiamo tutte le possibilità per far bene.